Più che una revisione dei fatti territoriali io parlerei di un adeguamento necessario in base anche alla cambiata normativa all'inquadramento del nostro presidio ospedaliero in zona carente che è avvenuta nella primavera scorsa. Già da molti mesi va avanti ovviamente un confronto con l'azienda sanitaria ma anche in particolare con l'assessorata alla sanità per lavorare su un potenziamento del nostro presidio ospedaliero alla luce del mutato scenario attorno alla sanità sia nel nostro territorio ma in tutta la Toscana e direi in tutta Italia a seguito dell'emergenza. Noi abbiamo letto il piano per la ripresa e il recovery che contiene anche misure e risorse molto importanti proprio ai fini della tutela della sanità di prossimità e della tutela della medicina sul territorio e proprio in quest'ottica stiamo chiedendo e lavorando insieme all'azienda sanitaria e alla regione toscana perché si possano vedere segni concreti e tangibili di un potenziamento dei servizi, un rafforzamento dei presidi territoriali anche sul nostro territorio. Questo significa portare secondo noi sull'ospedale Serristori funzioni ulteriori rispetto a quelle che erano precedenti alla pandemia, significa intervenire anche in termini di risorse umane potenziando gli organici del presidio ospedaliero, riaprendo per esempio prima possibile tutte le chirurgie e implementandone le attività e quindi ripristinando non solo le attività che erano precedenti al Covid ma soprattutto lavorando per un rafforzamento dei presidi territoriali, visto che ne abbiamo parlato tanto e abbiamo detto che questa è la chiave anche per rispondere maggiormente alle emergenze sanitarie. Ora non possiamo perdere l'occasione di implementare il nostro presidio di risorse umane e risorse economiche importanti. Questo è il lavoro che cercheremo di fare insieme alla Regione e che stiamo chiedendo in maniera chiara all'azienda sanitaria perché non possiamo pensare che il nostro presidio resti indietro rispetto ad altri sulla Aslecentro e quindi questo è il lavoro che vogliamo fare e su cui stiamo lavorando. Quindi penso che ora sia l'occasione buona davvero per potenziare il nostro presidio senza decooperarlo di risorse come purtroppo è avvenuto troppe volte in passato.